Ciao a tutti e benvenuti a Vitek Tape Albania, il programma ufficiale di Vitek Records. Io sono Rossella e sarò in compagnia degli ascoltatori di Radio Travel Albania per questa mezz'ora. Ciao ragazzi, sono Alessandro, dell'etichetta italiana Vitek Records. Ciao, siamo Bambuso. Ciao, siamo Pasta Rare. Ciao, sono Zaluca Di Bonito. Ciao, siamo Hardless Jet. Ciao, sono Maciano McConey. Sono Valeria Marulli, della band Mistura Loca. Ciao, siamo Postura. Sono Quello Darezzo. Ciao, siamo Unchun. Hello, this is Ambra Rakes, and I have a nice trip with Radio Travel. Let's rock! For shëndetje, un jam Adi Basha, dretori programacionit të Radio Travel, dhe kjo është Vitek Tej. Një program më muzik indie rock në partneritet në Vitek Records, që transkriptohet nga 80 radio në dëndet të ndryshpë dhe botës dhe ekskruzivisht për Shqipërin në Radio Travel. This is Vitek Tape, show on air every day. Indie music from Tavern di Corciano to the world. Ciao a tutti e benvenuti a Vitek Tape, il programma ufficiale di Vitek Records. Io sono Rossella e staro in vostra compagnia per la prossima mezz'ora. Sirio Pizzato, stagioni di vento. L'entusiasmo e smarrito già da un po'. Perso come me, in un buio luna fa. Frasi stupide, a vendare gli occhi suoi e portarli via così, ogni dignità. Sento stagioni di vento soffiare riapprenta su di me. Come la bocca fama da cercare del pane dove non c'è. Ho la luce che mi brucia in fondo all'anima. Dove la rabbia sa tacere, dove la fede può salvare. Il coraggio è bloccato già da un po'. Solo come me, per le vie della città. False regole, a tenere le mani sue e portargli via così, ogni libertà. E sento stagioni di vento soffiare riapprenta su di me. Come l'orgoglio ferito cercare giustizia dove non c'è. Ho la luce che mi brucia in fondo all'anima. Dove la rabbia sa tacere, dove la fede può salvare. Dove la rabbia sa tacere, dove la fede può salvare. Gloria Galassi, e sta a vedere chi ha ragione tu. E sta a vedere chi ha ragione tu. Proprio tu che ti ammazzerei. Mi hai detto col tuo modo subdolo, che io ti amerei. Io che mi sono messa a ridere, ma poi sono scappata via. Senza aver niente da rispondere, e con la cefalea. Sto cominciando a dare i numeri, sto a farmi delle fantasie. Ancora non lo so, non so cosa farò, ma il cuore mi batte un po'. Immaginando l'impossibile, sei fra le possibilità. E anche se dico no, se ci combatto un po' stanotte, io ti sognerò. E sta a vedere chi ha ragione tu, che così male poi non sei. Tu che mi stavi sullo stomaco, e un po' più su ora sei. Sto cominciando a dare i numeri, sto a farmi delle fantasie. Ancora non lo so, non so cosa farò. Ma il cuore mi batte un po'. Immaginando l'impossibile, sei fra le possibilità. E anche se dico no, se ci combatto un po', stanotte ti sognerò. Guarda che mi sta capitando, io la più sicura del mondo. Che rivedi i miei piani, le ferie e i progetti, il mio domani. Si d'accordo sto un po' correndo, ma mi accorgo che mi sorprendo. E immaginarmi di tutto, in qualsiasi posto con te. E sta a vedere che hai ragione tu, che la sai lunga più di me. E quelli motiva tanti pati è per te. Adesso so bene che cos'è. Ciao, siamo l'Electro Adda. Questo brano è estratto dal nostro nuovo EP. Un saluto a tutti gli ascoltatori di VicTech Tape. Un saluto a tutti gli ascoltatori di VicTech Tape. Un saluto a tutti gli ascoltatori di VicTech Tape. Un saluto a tutti gli ascoltatori di VicTech Tape. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti